Basterà un semplice clic su Google Maps per consultare facilmente e comodamente anche dal proprio telefonino orari, corso e fermate del trasporto pubblico locale abruzzese, grazie a un servizio gratuito pensato dal Polo Inoltra, società impegnata nello sviluppo competitivo e sinergico del sistema della mobilità sostenibile e realizzato in collaborazione con la regione Abruzzo e Google Maps. Pianificare in maniera completa il proprio viaggio sarà dunque possibile accedendo a Google Maps e scegliendo l'opzione indicazioni stradali, poi andando sulla sezione trasporto pubblico e digitando il luogo di partenza e arrivo del proprio viaggio. Al resto ci penserà Google, fornendo all'utente tutte le soluzioni possibili attraverso percorsi intermodali che incrociano trasporto su ferro, gomma e anche a piedi e rotte urbane ed extraurbane, come spiega l'ingegner Nino Di Bitonto, referente di Google. Questo è un travel planner, travel planner di Google Transit che permette all'utente del trasporto pubblico di spostarsi più facilmente nell'ambito del territorio regionale. Accedendo semplicemente da Google Maps l'utente può scegliere l'origine e la destinazione e quindi la soluzione di viaggio che più gli aggrada. Questo garantisce l'intermodalità, quindi la soluzione di viaggio può essere con un unico operatore o con più operatori e attraverso Google Maps si vede la soluzione complessiva. Si vedono anche tutte le fermate visualizzate con una funzione di street view che permette attraverso delle fotografie di individuare esattamente la fermata, quindi questo è un aiuto all'utente quando deve spostarsi nell'ambito di una località che anche non conosce. Con la digitalizzazione del servizio del trasporto pubblico locale l'Abruzzo colma una sua lacuna, allineandosi al panorama nazionale come dichiara Umberto D'Annuntis, sottosegretario alla presidenza della giunta regionale con delega ai trasporti. Diciamo una novità che finalmente è arrivata anche in Abruzzo, chiaro che è un primo passo in quanto non tutte le linee sono state digitalizzate e quindi non tutte sono ancora presenti, però riteniamo che nel giro di qualche mese si possa portare a compimento questa iniziativa. Il servizio di Google Maps è già attivo e al momento consente di visualizzare gli orari programmati. come ha dichiarato Alfonso Difonso, presidente del Polo Inoltra. Oggi ci sono inseriti solo quelli della Difonso, di cui sono anche presidente, ed entri in Italia, però ovviamente è un sistema aperto, nel senso che è un contenitore dove tu più inserisci più questi dati poi appaiono agli utenti. Il passo successivo è quello di rendere dinamico questo sistema. Oggi è statico, nel senso che ti fa vedere le linee programmate. Il nostro obiettivo è il rendere dinamico, cioè collegarlo con i mezzi che camminano, quindi mettere dei dispositivi satellitari che istante per istante controllano il mezzo e quindi addirittura tu sul telefonino avrai la situazione reale anche con i tempi di attesa e eventuali tempi di ritardo.